Monica Sirianni, ex concorrente del grande fratello 12, è morta improvvisamente all'età di 37 anni. La donna, insegnante d'inglese, si trovava in un bar di Soveria Manelli con degli amici quando è stata colpita da un malore. I soccorsi sono stati chiamati prontamente ma purtroppo è deceduta poco dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale della zona. La polizia sta effettuando ulteriori accertamenti sul caso Sirianni di origini italo-australiana. Era figlia di emigranti calabresi a Sydney, ma era tornata nella sua città natale di Soveria Manelli solo pochi giorni prima della sua morte. Poco dopo aver partecipato al grande fratello aveva deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo e della televisione.